ciao a tutti belli e brutti qua è mr fisher che vi parla come al solito perdonate la camera su schermo così selvaggia ma è un po ci sto avendo a casino impostare obs per registrarmi il desktop con windows 10 vabbè lasciamo perdere comunque sono qua per un aggiornamento rapido nel caso stiate valutando un aumento di ram per aumentare le prestazioni del vostro computer nel caso state valutando il passaggio a un ssd per velocizzare l'operazione del sistema nel caso anche se avete un hard disk fisico normale un disco volete provare a aumentare un po la prestazione del vostro sistema in generale comunque stavo pensando di darvi questa dritta sulla memoria virtuale che io utilizzo già da un po e comunque anche per le varie applicazioni di mining nel quale mi sto adentrando ultimamente ho utilizzato e ho potenziato sui miei device appunto parlando di memoria virtuale in poche parole cos'è la memoria virtuale allora prima di tutto vi faccio vedere le specifiche di questo portatile del mio Toshiba dove sono installate attualmente 12 giga di ram processore e memoria dedicata come potevate vedere dal desktop invita geforce 740m questo computer lo uso con obs per registrare col microscopio come avete visto probabilmente sul mio canale per questo l'ho velocizzato un po la memoria vi faccio vedere un attimo le specifiche del disco come potete vedere monto un ssd da 254 giga attualmente mi impegno e lo tengo particolarmente libero come potete vedere quindi una partizione abbondante dell'ssd la posso dedicare alla memoria virtuale mettiamola così come fare a impostare la memoria virtuale già di per sé windows ha impostato la memoria virtuale però la tiene abbastanza bassa per le impostazioni di mining ho scoperto che praticamente la memoria virtuale si può spingere in teoria a tre volte la ram installata fisicamente nel computer in questo caso 12 giga di ram vuol dire che io potrei spingerla a 36 giga di memoria virtuale in un computer ovviamente non in un portatile in un fisso che io stia usando per fare mining spinto con schede video e device particolari in questo caso non ho limitato il moltiplicatore di memoria virtuale come vi farò vedere adesso praticamente cliccate su advanced system setting che in italiano vabbè non mi ricordo come si dice impostazioni di sistema avanzato potrebbe essere comunque sempre l'ultima voce andate su advanced come potete vedere performance settings io ho qua impostato l'impostazione per praticamente potete gestire la graficità di windows io qua ho ridotto l'intervento della graficità al minimo così da potermi garantire un minimo incremento di prestazioni qua di base di solito avete impostato di lasciare windows decidere per voi potete fare come volete vi l'ho messo così e in effetti un pochettino è più veloce vabbè andiamo su che era visual effects andiamo su advanced vabbè processing scheduling vabbè andate su virtual memory come potete vedere e qua vi dice gestione del file di paging come potete vedere ho impostato 8 giga e 194 e 192 che poi sarebbe un banco perché io ho un banco da 8 giga e un banco da 4 come vi dicevo prima in totale 12 giga di ram e questa qua è il minimo di file di paging che ho impostato come potete vedere qua ho impostato un massimo di 12 che poi sarebbe la totalità della rank installata in questo momento ho limitato un po' il moltiplicatore ma devo dire che già così è abbastanza per esempio se voi avete 8 giga di di memoria ram installata potete iniziare impostando un valore minimo di 8 e un valore massimo di 8 che comunque sarà superiore a quello che probabilmente avete impostato di default perché Windows di solito lascia con la spunta qua gestisce il file automaticamente boh non mi ricordo quant'è in originale boh sarà 2 giga 3 giga probabilmente dedicati voi fate così se avete 8 giga di ram installata ve lo ripeto mi raccomando io comunque non mi assumo nessuna responsabilità è un consiglio che vi do perché comunque funziona lo faccio anch'io poi ovviamente di prendere device il mio computer lo tengo funzionante raffreddato bene cazzi e smazzi valutate un po' voi quanto aumentare però vi dico non andate oltre a 3 volte la quantità di rank avete installato io ne ho 12 impostate un minimo di 8 un massimo di 12 secondo me va bene così impostate i valori che più valutate consoni per la vostra macchina fate set io non lo faccio vabbè cliccate set vi chiederà un riavvio voi fate ok qua fate apply io faccio ok qua nel caso fate apply ancora io faccio ok e in questo momento riavviate il computer ora probabilmente il computer si riavverà un paio di volte vi sembrerà una roba abbastanza violenta probabilmente ci metterà anche un attimino a farlo però è normale perché deve creare la partizione meglio se in un ssd se no vabbè in un artista normale e quindi è normale che ci metta un po' nel riavvio e niente penso che al primo al secondo startup di windows già vedrete un notevole incremento della velocità di booting di boot e niente secondo me avrete un incremento generale delle prestazioni questo è tutto per questo aggiornamento veloce da MR Fisher ciao